Tanta guagna per tutti ragazzi qui è Double che vi parla e oggi sono qua per portarvi qualcosa di nuovo qualcosa di mai visto su questa community se non anche nelle altre community perché io ho cercato su youtube ma non ho trovato nulla si tratta di un doppio cento più con nuclear fade assalto ma prima di andarvi a spiegare cos'è un doppio cento più di cosa si tratta volevo dirvi ci tenevo a specificare che questo gameplay mi è stato passato da due miei compagni di clan che appunto non se ne fanno niente perché non hanno un canale youtube e quindi me l'hanno data a me e io appunto ho deciso di proporla guagna un doppio cento più praticamente si tratta di due cento più fatti nella stessa lobby da due giocatori diversi che giocavano in squadra insieme in questo gameplay voi vedrete un 135 e 4 che a mio avviso è un risultato molto buono e un 117 che è un risultato diciamo un po più normale ecco perché 17 morti sono comunque tante ma fare 100 kill quando uno in squadra contene fa 135 comunque gli altri vedrete che non hanno fatto non hanno fatte 10 o 15 di kill ma ne hanno fatte un bel po ecco volevo anche illustrarvi le classi anzi la classe perché purtroppo non mi hanno fornito la classe del 100 del 117 ma soltanto quella del 135 e 4 che poi è la visuale che io vi porterò la classe era un vector con caricatori aumentati ed fm j poi usava inflessibile acciaio e destrezza di perk secondaria attacca 45 due stordenti e una granata come avrete visto ora vi ho fatto vedere appunto il risultato cioè il punteggio nel risultato scusatemi stava facendo 9-3 3 morti perché io ho tagliato il primo pezzo nel quale aveva iniziato la partita facendo 1-3 mi pare aveva fatto due morti subito all'inizio per colpa di una granata le granate su nuketown ragazzi dovete sempre usare antischegge perché sennò su nuketown vi spanano l'ano comunque scusate mi dicevo dovete sempre usare antischegge perché sennò vi ammazzano lui era morto due volte all'inizio poi ne ha fatto una kill e rimorta un'altra volta io ho deciso di tagliare quel pezzo perché era un minuto e mezzo in più ecco perché era anche brutto da vedere insomma invece il resto della partita è molto molto carina da vedere poi aveva di serie uccisioni serie alquanto strane per i cento più perché non se ne vedono molto di queste serie ovvero cioè scusatemi vi sa tecani si vedono sempre ma l'odestar non si vede molto ecco anche se però su nuketown è una serie molto fondamentale perché giocando poi su demolizione specialmente fai tante spawn kill infatti lui prenderà quattro l'olster in questa partita e praticamente farà le stragi l'unica pecca però è che non aveva shakal e quindi doveva diciamo fregare le armi da terra infatti la partita è iniziata con un vector un vector e finirà con un msmc mi pare che finirà con questa msmc che sta usando anche ora non me lo ricordo comunque finirà con un'altra arma ecco le serie uccisioni invece che stava usando l'altro suo compagno che appunto ha fatto cento diciassette erano attacco fulminio vi sa sì scusatemi attacco fulminio vitol e lodestar allora il problema è che per gli amanti delle classi per coloro che vogliono sempre sapere le classi non mi hanno fornito la classe del ceto diciassette come vedete anche prima mi hanno detto appunto soltanto le serie uccisioni ma ragazzi vi posso assicurare che queste non sono classi per fare dei cento più ecco perché come vi ho detto prima qua lui stavo usando acciaio senza sciacalle quindi per un cento più non usare sciacallo è praticamente come non so non vi saprei dire perché sciacallo secondo me è uno dei perk più fondamentali per fare un cento più inoltre è un gameplay anche abbastanza rasciato perché comunque vi spiego su nuke town non puoi metterti a girare per la mappa perché è una mappa molto piccola che la gente praticamente ti sbuca da tutte le parti quindi tu devi cercare un attimino di ripararti dietro dietro un qualcosa che può essere appunto il camioncino in questo caso o comunque stare dentro la casetta e controllare quella porzione di mappa ecco che però magari è nel tuo spawn ecco perché se controlli il tuo spawn praticamente è inutile infatti vedrete che in varie occasioni si butta nello spawn nemico anzi principalmente sta nello spawn nemico perché nel primo round praticamente l'abbiamo visto dentro la casetta dove lo spawn nemico ho detto spawn nemico tre volte in 2,3 secondi comunque quelli sono dettagli secondari ragazzi non fateci caso e poi appunto come vedete all'inizio c'è anche il nuclear fail d'assalto perché a 27 kill di fila praticamente ci si tuffa dentro uno spawn come un delfino e muore ma vedrete che morirà in una maniera abbastanza assurda d'altronde come tutti perché io quando vedo questi gameplay vedo la gente morire muoiono tutti in dei modi alquanto assurdi e quella appunto sarà l'unica morte dopo le tre morti che ha fatto all'inizio ecco poteva venire un gameplay migliore perché poteva venire tranquillamente un 200 o 250 più anche non vorrei esagerare non ammazzatemi non uccidetemi nei commenti scrivendomi chissà cosa comunque secondo me poteva venire un risultato molto più alto anche se comunque va già bene così perché come vi ho detto un doppio 100 più io non l'ho ancora visto magari voi l'avrete visto anzi quasi sicuramente voi l'avrete visto perché io non è che ci vivo praticamente su youtube ci vado ogni tanto cioè carico i miei video e comunque video degli altri non li guardo molto seguo giusto quei 3-4 youtuber che mi interessano ecco come avete visto a questo round al secondo round appunto era stava facendo 104-3 e ora appunto è il momento che prima vi stavo che vi avevo accennato ecco nel quale lui si tuffa nello spawn nemico ed aveva già raggiunto brutale prima mi pare o lo raggiunge ora non me lo ricordo perché questo gameplay è stato registrato un bel po' di mesi fa circa non me lo ricordo fatemi ci pensare penso tre mesi fa ecco quando ci sono stati i primi punti doppi nella mappa Nuketown quando c'è stata la prima volta Nuketown c'è praticamente c'era quella modalità dove ti trovavi sempre Nuketown e avevi punti doppi mi sembra che sono stati i punti doppi per il DLC Revolution non me lo ricordo non vorrei sparare una cavolata comunque eccolo lì ecco il periodo era quello lì qua il gameplay diciamo che è quasi finito appunto avrete visto anche la morte non ve l'ho detta e non ve l'ho diciamo specificata perché tanto l'avevo detta tre volte non volevo ripetere ulteriormente quella cosa qua appunto mancheranno non so mancano mi pare due minuti di gameplay ancora le kill praticamente sono finite perché dopo che tu hai fatto 130 kill dice l'altro ora tocca a me fare le kill infatti vedrete che gira nello spawn a vuoto ma non troverà più nessuno perché c'è l'altro suo compagno che col VTOL fa le stragi e appunto secondo me ragazzi il VTOL su Nuketown è una serie che io vi consiglio tantissimo se voi giocate su Nuketown le serie che io vi consiglio per fare un 100 o più sono VTOL, Lodestar e Kani sono delle serie micidiali anche su 6 contro 6 appunto prima che il gameplay termini volevo specificare appunto che è un 6 contro 6 e un'altra cosa che tutti diciamo si lamentano tutti dicono beh ma avevi la squadra che ti supportava e ti lanciavano visata manetta o avvia manetta invece no ragazzi come vedrete nelle varie volte che io faccio vedere il risultato loro non erano host perché giocavano in due e detto questo io concludo qua vi invito a lasciare un mi piace perché il video è finito di iscrivervi al canale di Wanya se vi va magari passate anche dal mio e ciao a tutti ragazzi speriamo alla prossima